oggi i ragazzi del master art faranno una cosa particolare andremo in gita a venezia a fare un sacco di disegni per cui abbiamo deciso di espandere la visione e fare un video un vlog a 360 gradi se siete sul telefono potete tranquillamente draggare con il dito se siete al computer invece o trascinate con il puntatore del mouse oppure usate i testini WASD penso che si chiamano così venite in gita con noi adesso te lo incurano no e sta attento ma tanto vediamo di noi pazzesco si perché se giro va beh vai Debs, cosa stiamo facendo oggi? andiamo in gita a venezia per? per fare delle foto con gli ipod e dei lavori senti aspetta devo fare risolviamo il viaggiatur che il treno avviene in 130 attive le ore 9.56 e diretti avviene effetto a suo servizio in salita per viaggiatur diretti all'estero inizio vai saltone, saltone saltone, saltone, salta, 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 salta il master art meglio cosa che si scoprono dopo che conosci i ragazzi del master art è che sembrano dei muli al pascolo fanno il verso dei muli al pascolo fanno il verso dei muli al pascolo com'è? sei pratica di venezia? in realtà no, ci sono state un sacco di volte ma ho sempre visto i questi posti infatti se vediamo a piazza San Marco sono felice ricco e lei? era il nostro navigatore e ci ha portato all'orentico esatto ci ha portato a mangiare tiriamo lì, tiriamo fuori gli ipad e teniamo con il cilindore io direi di andare e si apre 3, 2, 1 boom è ovvio se c'è già il tipo che li fa guardalo adesso dobbiamo andare là e fare un inception di 360 360 si ci hanno già cacciati non possiamo sederci su sui gradini come in realtà stanno facendo tutti ma noi non possiamo farlo questa scena è in qualsiasi film esatto e noi siamo qua in una banalità di solito nei film mirati a venezia che è imbarazzante esatto però ci hanno detto che ai giardini reali c'è qualcosa quindi andremo a vedere vediamo ok 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 no raga io quando sono andato a fare vela è proprio ma il massimo ti saluto da' no? ma hai fatto? ragazzi scusa sai no ci mancherebbe adesso che ci puoi fare un like? raga io e deb abbiamo fatto lezione di vela eh infatti ecco se vedi infatti che è abituale a stare in acqua ahahah proviamo ci riproviamo? a cercare un posto dove disegnare di posto il tentativo numero 174 But I can't get them out Truth is I'm tired of lying To myself I've been trying To figure out what went wrong Or was it wrong all along Truth is I'm tired of lying To myself I've been trying You ain't gone Our time is up I'm moving on The time is up I'm moving on 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 Un sacco di caldo, un sacco di sole Siamo riusciti a disegnare qualcosa Abbiamo scoperto qualcos'altro Potevamo andare peggio Sì, potevamo non mangiare benissimo Esatto, e non trovare il parco dei bambini Bellissimo, ok Quindi bella storia Chissà che verranno fatti altri vlog del 360 Bella ragazzi 3, 2, 1 Grazie a tutti Grazie a tutti